La Fondazione ITS Turismo e Nuove Tecnologie e Marche ha organizzato per il 7, 8 e 9 marzo un evento dal titolo It's Day Live dall'aula all'azienda con un approccio 4.0. L'obiettivo di queste tre giorni, il primo obiettivo e il principale è incontrare gli studenti e i giovani, quindi mettere a disposizione, mettersi al servizio di questi ragazzi e ragazze di 18-19 anni per provare a capire quali passioni, quali interessi, quali attitudini hanno che possano essere favorite verso il mercato del lavoro. Il secondo obiettivo dell'incontro è quello di capire dalle imprese stesse quali figure stanno cercando. L'appuntamento è previsto per lunedì prossimo al Teatro della Fortuna alle ore 9 dove vedrà la presenza di 250 studenti provenienti dalle scuole del territorio. Dopo una prima parte istituzionale tanti relatori giovani che hanno avuto successo a 25-28 anni nella loro vita professionale che proveranno a dialogare con questi ragazzi. I giorni successivi, il giorno 8 sarà il giorno degli studenti in cui faremo una formazione dei nostri formatori legata a un tema molto delicato in questo momento, cioè la gestione della DAD, della formazione a distanza. Si parlerà quindi di come utilizzare al meglio lo strumento video e utilizzare la gamification, il gioco, come strumento di stimolo per l'apprendimento. Il giorno 9 invece incontreremo le aziende e i professionisti per parlare di intelligenza artificiale che è uno dei temi che il nostro istituto sta tentando di sviluppare come professioni in ambito turistico e non solo. Per informazioni e per partecipare alle giornate è necessario iscriversi a questo indirizzo. ETS è un percorso biennale, un percorso che ha 900 ore di laboratorio dove imprese, imprenditori, consulenti, professionisti incontrano gli studenti e gli trasferiscono competenze. Al termine di questo periodo del percorso ci sono poi sei mesi di esperienza in azienda dove i ragazzi e le ragazze possono mettere in pratica quanto appreso. Percentuali di occupazione attuali siamo intorno al 75% di occupazione coerente. La parola coerente per noi è molto importante perché tentiamo di parlare di buona occupazione in termini di assolvere quella che è un pochino la volontà del giovane di andare a lavorare in un ambito dove lui vuole lavorare. Il percorso è gratuito perché grazie alla Regione Marche che finanzia il 70% attraverso il Fondo Sociale Europeo, all'assessorato, all'alta formazione e al 15% finanziato dai privati e al 15% dal Ministero dell'Istruzione ecco che per gli studenti questo non ha costo in termini di moneta ma ha costo in termini di impegno perché poi c'è una collettività ovviamente che paga queste attività.